Buongiorno, buongiorno, buon giovedì 7 maggio 2020, come sempre rapidi, concreti, con una visione di paese, di Italia, di Europa e di futuro che va al di là del Covid e arriva non alle prossime settimane ma ai prossimi mesi, ai prossimi anni. Oggi un tema particolarmente importante, di grande sensibilità, di grande comunicazione come quello legato alle tematiche ambientali, sviluppo sostenibile, turismo sostenibile, ristrutturazioni edilizie, rigenerazione urbana, con una visione però che non sia alternativa fra o tutela dell'ambiente o sviluppo economico, perché la decrescita felice alla grillo, soprattutto in tempi di Covid, davanti al video ci saranno sicuramente persone che hanno enorme preoccupazione sul lavoro che c'è, non c'è, rischia di saltare, quindi di tutto vorremmo parlare tranne che di decrescita. Coniugare la crescita, lo sviluppo e la tutela dell'ambiente è non solo possibile ma doveroso, ne parliamo in tema di rifiuti, pensiamo ai eroghi tossici, pensiamo alla terra dei fuochi, pensiamo all'emergenza ambientale, ma pensiamo anche molto banalmente al riutilizzo delle mascherine, a come, dove buttare, rigenerare tutte le milionate di oggetti che stiamo utilizzando in tempi di Covid, forse la battaglia storica della Lega e delle imprese per sospendere quantomeno la tassa sulla plastica, ecco in tempi di emergenza sanitaria, qualche fenomeno che voleva tassare anche l'aria che si respira, si è reso conto che senza la plastica usata in maniera intelligente anche i nostri ospedali sarebbero stati in enorme difficoltà. Per qualche minuto, se ne avrete pazienza, non 30 proposte ma poche proposte, concrete, serie, documentate e argomentate della Lega che in alcune realtà sono già effettive nei comuni dove governiamo, nelle regioni dove governiamo, per rispettare l'ecosistema che ci circonda ma senza danneggiare le imprese, la crescita economica e il lavoro. Non esiste il dualismo per quello che riguarda la Lega fra tutela dell'ambiente e sviluppo economico-industriale. Possono e devono andare avanti assieme. Io do la parola a Vagna Gava, responsabile del settore ambiente, poi a Luca Brizziarelli, una riflessione al volo, visto che si parla tanto di Cina in questo periodo, ecco noi imponiamo giustamente ai nostri imprenditori, ai nostri lavoratori, 6.000 norme, vincoli, cavilli, impatti, valutazioni, proroghe, deroghe, rinvii. In Cina ovviamente non viene rispettata nessuna tematica di rispetto dell'ambiente e del lavoro, quindi se l'Europa esiste, porsi il problema di tutelare il nostro ambiente, i nostri lavoratori, i nostri imprenditori, i nostri prodotti dalla concorrenza sleale di chi scarica nelle acque o in aria qualsiasi schifezza possibile, se serve anche con tutele economiche, con dazzi, non solo per motivi economici, non entro nel merito della diffusione del virus che mi sembra evidente da dove sia partito, però se bisogna tutelare l'ambiente bisogna tutelarlo in tutti i cinque i continenti. È inutile chiedere al nostro imprenditore siciliano, veneto, friulano, lombardo o pugliese di seguire 18 protocolli se poi dall'altra parte del mondo ci invadono commerci sotto costo senza nessun rispetto delle tematiche ambientali. Tre proposte molto concrete, Vagna e ti ringrazio, tre proposte molto concrete, Luca e ti ringrazio, poi se ci sono domande rispondiamo volentieri. Buongiorno a tutti, grazie e ringrazio soprattutto Matteo Salvini per aver voluto questa conferenza stampa e per essere sempre attento alle tematiche ambientali, ambientali viste come sviluppo sostenibile, quindi la visione della Lega sullo sviluppo sostenibile e come creare economia salvaguardando appunto l'ambiente perché ognuno ha diritto alla salute, all'ambiente, ma c'è diritto anche al lavoro e all'economia. Noi dobbiamo con le conoscenze che abbiamo, con i governatori che abbiamo, con la concretezza dei nostri territori dobbiamo esportarla, esportarla come modello in tutto il paese e creare economia proprio tutelando l'ambiente. Che cosa vuol dire? Vuol dire sburocratizzare, vuol dire semplificare, vuol dire incentivare i nostri imprenditori e non ingabbiarle in una rete di burocrazia che ovviamente non dà quella sicurezza per fare degli investimenti. E' proprio grazie ai nostri imprenditori, imprenditori che con i loro investimenti in questi anni, frutto di ricerca e di tecnologie, hanno potuto mettere sul piatto dell'ambiente proprio delle nuove proposte per salvaguardarlo. E quindi noi proponiamo da subito una riforma e una riscrittura del tuo, del testo unico ambientale. Testo unico che ha ben 14 anni. Un testo unico che nel frattempo è cambiato, sono state inserite delle norme, sono state fatte delle aggiunte. In 14 anni, lo sapete bene anche voi, è cambiato il mondo. E quindi dobbiamo assolutamente aggiornarlo perché rischiamo di avere degli operatori disorientati e impauriti per paura appunto di incappare in procedure penali. Dobbiamo bonificare tutti quei siti che sono nel nostro paese. Abbiamo tantissimi siti che possono essere recuperati e quindi recupero di un ambiente e reindustrializzare. Un'operazione però che va avviata subito perché crea economia. Parliamo di 10 miliardi solo per la bonifica senza tutto quello che fa parte della reindustrializzazione. Ma dobbiamo aggiornare e dobbiamo semplificare. Non è pensabile che la ricerca degli analiti nei nostri siti, la nostra normativa chieda ben 70 ricerche quando la media europea è di 24. Voi capite bene che il tempo ma soprattutto i costi per questi imprenditori non permettono appunto di fare un progetto serio e di far partire una reindustrializzazione. Parliamo anche del disesto idrogeologico perché non si può parlare di disesto idrogeologico solamente quando ci sono grandi eventi nel nostro paese. Ci sono 11 miliardi nei cassetti del governo che vanno sbloccati ma vanno dati in mano alle regioni come abbiamo fatto noi quando eravamo al governo che quei 315 milioni li abbiamo dati alle regioni perché è giusto che le regioni, i governatori che sono stati eletti che conoscono il proprio territorio possano avviare quelle procedure ma soprattutto possono far partire quei progetti sul disesto idrogeologico. È un paese che va tutelato e parte anche da qua. Quindi sono altri 11 miliardi solo per questo. Per non parlare poi degli impianti per i rifiuti. È una nostra battaglia. L'economia circolare, visto che si stanno tutti quanti riempendo la bocca di questa parola ma per noi è una visione ben chiara e l'abbiamo visto in questa emergenza durante il coronavirus quando non si potevano esportare i rifiuti all'estero e si è dovuto fare una norma di corsa per poter aumentare i siti di stoccaggio. È un problema. Questo paese deve capire che il rifiuto è una risorsa come succede nella maggior parte dei paesi europei. Fare gli impianti per il recupero il riciclaggio dei materiali, questo crea economia. E per chiudere il circolo virtuoso dell'economia circolare ci vogliono i termoutilizzatori, i termovalorizzatori. Termovalorizzatori perché una volta recuperato tutto irrecuperabile, comunque rimane una percentuale che va recuperata ma con quei rifiuti valorizzati viene creata di nuovo economia perché possiamo dare corrente elettrica, possiamo dare riscaldamento e con la cenere dei termovalorizzatori utilizziamola per fare le strade come succede nei maggiori paesi europei. Ecco, questa è un'altra misura da 20 miliardi. Non possiamo pensare di continuare a mettere la polvere sotto il tappeto e parlare di rifiuti zero che è inesistente. Possiamo aumentare sempre di più la raccolta differenziata e siamo d'accordo. Ma quei rifiuti vanno recuperati come una risorsa. Non possiamo di sicuro bruciarli perché qualcuno, mi deve spiegare qualcuno che è al governo che cosa ha fatto nella terra dei fuochi in questi anni. La terra dei fuochi, quei roghi che stanno bruciando vuol dire che sta bruciando un'economia che è sommersa, ricchissima e clandestina. Quella non è il modo di risolvere il problema. E quindi, ecco, queste sono delle misure, ma poi ci sono tantissime altre misure come la valorizzazione del turismo sostenibile, ma come la mobilità sostenibile dove non è pensabile che noi abbiamo ancora dei mezzi che circolano, delle merci che circolano su gomma, quando potremmo potenziare le reti ferroviarie per far partire le merci anche con i treni. Quindi incentiviamo i mare bonus e i ferro bonus, diamo una mano agli imprenditori ad investire. Questa è la nostra visione di ambiente, la nostra visione della Lega, ma una visione che parte, come dicevo prima, dalla concretezza di chi lavora nei territori, di chi è abituato ad amministrare e ad amministrare bene. Queste sono misure che, sburocratizzando e semplificando queste procedure, creano economia. Non abbiamo bisogno di soldi che ci arrivano dall'Europa per essere strozzati più avanti quando possiamo creare economia con le nostre risorse. E quindi io davvero ti ringrazio Matteo per aver voluto e per darmi continui stimoli anche in questo settore. Grazie. Grazie a te Vania. Al di là delle tematiche della tutela dell'ambiente, chi ci sta seguendo in questo giovedì ora di pranzo si è reso conto che ci sono in ballo decine di miliardi di euro di investimenti. Però il problema è che se per le bonifiche tu hai scritto su un foglietto che ci sono 11 miliardi, ma visto che hai burocrazie e procedure complicate non li spendi, quegli 11 miliardi non diventano lavoro ma rimangono un numeretto scritto sul foglio. Questo vale per i rifiuti. Ci sono già alcune regioni che intravedono l'emergenza rifiuti appena passata l'emergenza virus. Quindi prevenire è meglio che curare. Noi lasciamo agli atti il fatto che le proposte ci sono, le idee ci sono, i soldi ci sono. Se qualcuno non farà quello che è necessario perché è impegnato a litigare sulle sanatorie, sulla scarcerazione dei boss mafiosi, sulla riapertura della scuola o su altro, però noi potremo dire e continueremo a riproporlo, la Lega le idee le ha suggerite. Al volo Luca. Grazie a Matteo e a Vagna. Entrando subito nello specifico, l'abbiamo sentito, ambiente e sviluppo possono andare a braccetto, è quello che noi immaginavamo sia per la fase dell'emergenza che per quello che sarà la ricostruzione vera e propria del Paese. Per la fase dell'emergenza due cose che sono mancate e che vanno assolutamente risolte. Regole chiare e certe, non si possono dare linee guida vuote e non vincolanti, i cittadini e le aziende hanno bisogno di regole chiare anche su come gestire i rifiuti, si è detto anche dello smaltimento delle mascherine e di come reimpostare tutta una vita ora che siamo in emergenza. Secondo aspetto della fase emergenziale. Il nostro sistema economico e imprenditoriale è in ginocchio. Stiamo ancora aspettando contributi che si promettono ma non arrivano. Ma allora, e abbiamo già presentato su questo con Vagna Gava un emendamento al decreto liquidità, intanto lo Stato dia i soldi che deve alle aziende. Ci sono solo in questo settore oltre 9 miliardi di crediti che le aziende che gestiscono il sistema di gestione dei rifiuti vantano e non sono stati liquidati. Allora noi abbiamo proposto una garanzia da parte dello Stato per questi crediti che non sono stati liquidati che potrebbero rappresentare un volano importante per il sistema aziendale e noi vogliamo che possano essere utilizzati sia per la spesa corrente delle aziende, per sostenere magari i lavoratori, l'impresa, ma anche per gli investimenti. Questo per la fase emergenziale. Poi c'è da ripensare il Paese e noi intendiamo fare delle proposte che siano concrete, sostenibili e con un effetto moltiplicatore importante. Si può valorizzare l'ambiente non mettendolo sotto una campana di vetro, difendendolo ma facendola lavorare le imprese. Non solo come diceva Vania Gava sulle bonifiche ma ad esempio con un forte investimento sulla rete idrica. Voi sapete tutti siamo per la difesa dell'acqua. Ebbene quando voi aprite il rubinetto per 100 litri che partono ne arrivano 42,4. Cioè c'è una dispersione che in alcune zone del Paese arriva più della metà. Per avere un litro nelle nostre case di acqua ne viaggiano due perché uno si perde per le tubature. Tubature che in molti casi sono vecchie di 30 o anche di 50 anni. In molti casi anche con presenza di tubature in amianto. E allora noi crediamo che un investimento forte in questo settore permetta alle aziende di lavorare tutelando l'acqua che è un bene preziosissimo e anche la salute dei cittadini. Oltre agli investimenti sulla rete idrica noi abbiamo presentato già in Senato una legge sull'utilizzo responsabile del suolo e la rigenerazione urbana che si contrappone a quella visione ideologica dei Cinque Stelle per cui non si dovrebbe più toccare nemmeno un mattone. Per loro non si dovrebbe costruire nulla. Noi diciamo pensiamo con attenzione a che cosa realizziamo, ripensiamo le nostre città. Sono interventi che si autosostengono per l'economia che producono e mettono in circolo ma che vanno anche a tutelare la vita di molte persone nelle città. Voi immaginate in quelle zone in cui una scuola non è possibile migliorarla sul piano sismico perché non si dovrebbe delocalizzare e costruire da un'altra parte. In quelle zone noi abbiamo cento centri urbani in Italia in infrazione perché non hanno reti fognarie e non hanno sistemi di trattamento delle acque. Noi paghiamo milioni e milioni, decine di milioni di euro di multa alla comunità europea perché quelle città, quei cittadini non hanno un servizio che lo Stato, le regioni, i comuni dovrebbero garantire. Investiamo in questo senso, significa far lavorare le aziende e rispettare l'ambiente. Stesso discorso per l'efficientamento energetico. Giustissimo pensare alla decarbonizzazione ma intanto se per scaldare un'abitazione possiamo risparmiare, spendere comunque di meno efficientando quell'edificio, perché non farlo? Allora andiamo anche in questo caso a semplificare e valorizzare degli investimenti che oltre a tutelare l'ambiente fanno lavorare le aziende. Troppo spesso si pensa giustamente a ripartire ricchezza e a sostenere chi in questo momento è in difficoltà, ma non a come la ricchezza si crea. Noi riteniamo che l'ambiente possa essere occasione di sviluppo e di crescita guardando al futuro e proprio per questo ci possa essere un rispetto maggiore dell'ambiente in una società in cui i cittadini hanno la possibilità di vivere con un certo livello piuttosto che in un altro. Noi vediamo che purtroppo e proprio nelle economie che hanno più difficoltà, che magari non si rispetta l'ambiente, si inquina di più, non si ha la capacità di tutelarlo. Noi vogliamo non sfruttarlo ma valorizzarlo con proposte concrete già depositate e economicamente sostenibili. Non un libro dei sogni ma un programma concreto. Mi sembra che sia evidente la voglia di collaborare con chi è attualmente al Governo per aiutare il Paese a rialzarsi e a ripartire con proposte concrete. I no possono essere solo no ideologici e pregiudiziali perché quando la metà dell'acqua tu la perdi per strada prima che ti esca dal rubinetto è evidente che occorre intervenire da quel punto di vista. Se ci sono domande su questo tema rispondiamo più che volentieri. Intanto seguiamo anche tutto quello che accade intorno a noi nel mondo. Pronti? Le domande sono su temi politici. Ma guarda non l'avrei mai detto. Cardone Tg2. Lei ha definito allarmante la minaccia di dimissione della Ministra Bellanova sulla maxisanatoria di immigrati irregolari in agricoltura e motivo di scontro con parte dell'esecutivo. Qual è la sua posizione in merito e come legge i nuovi numeri sugli sbarchi di migranti 800 in un mese? Gli sbarchi di immigrati sono quadruplicati rispetto allo stesso periodo dell'anno scorso. È chiaro che se tu per settimane parli di sanatorie, regolarizzazioni, regali e permessi il messaggio che arriva sull'altra sponda del Mediterraneo è partite, partite, partite perché tanto in Italia prima o poi una sistemazione la si trova. Quindi è criminogena la sola idea di regolarizzare centinaia di migliaia di immigrati. Un conto sarebbe prorogare per un tempo limitato il permesso di coloro ai quali è scaduto il contratto di lavoro in questo periodo perché per italiani e immigrati evidentemente negli ultimi mesi è stato impossibile lavorare. Però una cosa ad hoc, individuale, a tempo, solo per chi già lavorava è un conto. Una sanatoria indiscriminata anche per delinquenti, nullafacenti e spacciatori sarebbe devastante. Perché ho definito allarmante le minacce, ormai sono minacce pressoché quotidiane di dimissioni di questo o quel ministro perché un settore così importante come l'agricoltura e la pesca che grazie agli agricoltori, agli allevatori e pescatori sta dando da mangiare agli italiani in queste settimane di chiusura, avere al vertice del ministero qualcuno che un giorno è ministro, un giorno dopo non è più ministro e litiga con tutto il resto del mondo non aiuta, anche perché il prezzo del latte sta crollando, l'esportazione di vino è totalmente bloccata. Fiori, latticini, prosciutti, pesce sono settori in difficoltà che avrebbero bisogno di denari a fondo perduto per almeno 2 miliardi di euro. Voi capite che se questi da settimane litigano sulla sanatoria sì o sulla sanatoria no, la questione è preoccupante da ex ministro dell'interno sono dispiaciuto perché ci abbiamo messo un anno per riportare l'Italia a essere un paese con dignità e con fini sotto controllo, il fatto che nonostante il virus gli sbarchi siano quadruplicati è un pessimo segnale perché a emergenza sanitaria conclusa ci auguriamo nel più breve tempo possibile, non oso immaginare la riapertura totale e il fatto che l'Italia tornerà a essere un campo profu come era qualche anno fa. Questa è un'enorme preoccupazione. Sullo stesso tema, Sarno Tg1, secondo lei il governo riuscirà a trovare una mediazione oppure su questo tema può cadere? Ma guardi, al governo stanno litigando sulla giustizia con la questione del ministro Buonafede e su questo sono contento perché dopo ore e ore di lavoro il centrodestra compatto, unito, ha trovato una posizione comune che è stata depositata in Senato che prevede che il ministro Buonafede dopo i mille errori fatti, non stiamo a riassumerli però, dalle rivolte nelle carceri, all'uscita dei boss mafiosi, ergastolani, delinquenti, spacciatori, assassini. Ancora oggi il ministro ha detto ma non è colpa mia, non è colpa del governo, a me non interessa. Ha detto sono scelte dei magistrati, sono libere scelte dalla magistratura indipendente. Chiaro che se in base a una circolare che arriva dal ministero della giustizia i giudici sono costretti a trovarsi di fronte a liste di centinaia di persone a presunto rischio, a me non interessa agli italiani, non interessa alle vittime di mafia, non interessa di chi è la colpa. C'è un ministro della giustizia, se ci sono le carceri in rivolta, morti, feriti, scarcerati, ergastolani che sono a casa magari a guardare questa conferenza, ne risponde il ministro. In un'azienda ne risponde l'amministratore delegato, in una famiglia ne risponde il capo famiglia, non esiste che il ministro dica è sempre colpa degli altri. Quindi quantomeno su questo c'è una posizione compatta e comune, però sulla giustizia litigano, sulla sanatoria litigano, sulla scuola litigano, nel senso che non abbiamo ancora capito chi fa cosa, quando e perché. Ne approfitto per ringraziare i ragazzi italiani che si sono dimostrati di una pazienza e di un'educazione straordinaria. Già sarebbe difficile andare avanti con un governo litigioso in tempi di pace, figurarsi in tempi di necessità di ricostruzione, di riforme rivoluzionari. Quindi mi auguro che la smettano il prima possibile da tutti i punti di vista. Noi, come dimostriamo oggi, nonostante le loro beghe, le proposte le facciamo, sperando che ad esempio la tassa sulla plastica sarebbe folle, che il primo luglio ci fosse un'ennesima tassa sulle spalle di coloro che già sono in enormi difficoltà. Speriamo almeno che su questo ci ascoltino. Saita di Ennecronos. Dopo l'occupazione del Parlamento voi avete smobilitato e lei ha parlato di segnali positivi che arrivano dal governo. Li conferma? È soddisfatto? Oppure tornerete a presiedere le aule delle camere? Ci era stato garantito, ma non a noi come Lega, agli italiani settimana scorsa, che questa settimana sarebbe stato partorito finalmente il decreto aprile, ormai a maggio, con i 55 miliardi. Siamo a giovedì, non c'è traccia di questo decreto, ci dicono per litigi interni alla maggioranza. Gli italiani stanno portando una pazienza enorme, però segnali di paura, di rabbia, di nervosismo, di disperazione ci sono. Ricordo Antonio che si è suicidato ieri a Napoli e ahimeno nel primo, quindi il problema non è che atteggiamento terrà la Lega. Ripeto, fermo, costruttivo, se c'è bisogno andando anche nelle aule del Parlamento a presidiarle. Era stato garantito al Paese che entro questa settimana sarebbe arrivato il decreto, si sarebbero arrestati i mafiosi in uscita dalla galera. Devo dire che oggi è giovedì, aspettiamo venerdì, temo che non ci saranno segnali positivi e quindi come Lega valuteremo come dare voce alle persone che sono a casa. Sempre a proposito di occupazione, Tortorolo chiede se la Lega intende occupare di nuovo il Parlamento, se il Governo bara la regolarizzazione. La protesta annunciata sarà eventualmente parlamentari o stavolta andrete in piazza? Noi seguiamo le regole, come le seguono i tanti commercianti che stanno protestando silenziosamente, educatamente, a distanza con mascherine, che vengono incredibilmente multati a botte di 400 euro. Noi nel rispetto delle regole, pur non condividendo ormai questa chiusura e clausura prolungata, se ci sarà una sanatoria di centinaia, di migliaia di immigrati clandestini attualmente, abusivamente, illegalmente presenti in questo Paese, protesteremo a nome degli italiani e degli immigrati regolari sia nelle aule del Parlamento che fuori dalle aule del Parlamento in maniera composta, educata e regolare. Antonini della Dire, come si conciliano le proposte ambientali con le proposte di condoni edilizi? Sostenete ancora la necessità di un condono? Non temete possa scatenare illeciti ambientali gravi in un Paese già aggredito dal cemento selvaggio? Io faccio, probabilmente il collega non lo sa, però gli do un'informazione utile per svolgere al meglio il suo lavoro. Nel solo Comune di Roma sono già centi, in alcuni casi da 20 anni, 180 mila pratiche di condono edilizio risalente agli anni passati e a leggi passate. Ora, ci sono due modi di affrontare questi casi. Far finta di niente, cioè lasciarle lì nei cassetti, oppure affrontarle, permettere al Comune di incassare quello che può incassare, permettere alle imprese di lavorare, e mi sembra che l'edilizia ne abbia assolutamente bisogno, sanare il progresso e poi fermare tutto, ne parlava Vagna Gava, rigenerazione urbana, reindustrializzazione a norma. Bisogna sveltire, aiutare, non rallentare o danneggiare. E' chiaro che i grandi abusi vanno rasi al suolo, anzi, si è già in ritardo in tante zone nella rinormalizzazione. Quello che si è fatto la villetta sulla spiaggia o sulle pendici del vulcano, evidentemente quella villetta non ha senso di esistere né sulla spiaggia, ma siccome ci sono migliaia di pratiche sulla grondaia, sulla finestra, sul sottotetto, sul balconcino, sul giardinetto, mi sembra che sia intelligente chiudere con questo fardello pregresso e ripartire. Santarelli, prima pagina. Senatore Salvini, ieri mattina un gruppo di commercianti a Milano ha protestato in maniera pacifica e molti sono stati multati. Secondo lei, dietro questo paradosso delle multe ai cittadini esasperati, c'è un segnale del Governo che in Italia non si può più manifestare? E' un modo di mettere in guardia anche l'opposizione sull'eventualità di invitare il popolo a reagire nelle piazze? No, noi non è che invitiamo a far casino, questi sono movimenti spontanei di, io li ho visti in televisione, signore di una certa età, lavoratori non abituati ad andare in piazza, baristi, parrucchieri, agenti di commercio, partite IVA, ristoratori, albergatori, imprenditori, precari, che in maniera composta, educata a distanza, con una seggiolina in piazza, chiedono di poter tornare a lavorare. Noi siamo già stati contattati da tante associazioni per dare una mano a fare ricorsi contro queste multe che sono state date in Friuli, in Puglia, in Sicilia, in Liguria, in Lombardia, nel Lazio e noi aiuteremo tutti coloro che vogliono fare ricorso gratuitamente perché riteniamo immorale e illegale punire chi chiede solo di tornare a lavorare. Non vorrei tornare ai simpatici cortei con bandiere rosse per il 25 aprile che non mi sembra abbiano avuto identico trattamento. Da ex ministro dell'Interno sono solidale con le forze dell'ordine, che sono costrette invece di inseguire i delinquenti ad andare a inseguire parrucchieri e baristi. Faremo ricorso nei confronti di tutte queste sanzioni perché, oltre il danno alla beffa, chi è chiuso da mesi si vede presentare dallo Stato un conto di 400 euro per una presenza composta in piazza. Io spero che il Governo permetta il ritorno alla normalità in sicurezza ai lavoratori e ai cittadini italiani il prima possibile perché ormai siamo al cinquantasettesimo giorno di chiusura. Dopo l'emergenza sanitaria rischia veramente di affarciarsi l'emergenza sociale ed economica. Noi come Lega stiamo lavorando per evitare, per aiutare, per accompagnare, per rassicurare. Però se anche in questi minuti leggo che al Governo ci si è impegnati a litigare più che a risolvere, la situazione non è facile. Ultima domanda. Angelo Ronconi per Eurocomunicazione. Non pensate che il cosiddetto Green New Deal ci chieda di affrettarci a non usare più i combustibili fossili e sostanzialmente incentivare la delocalizzazione di molte industrie in paese dove di fatto inquinerebbero anche il nostro posto? Perché nessuno parla di quanto si inquina per trasportare prodotti di ogni genere realizzati dall'altra parte del mondo? Bella domanda. Faccio dare a voi una risposta volante. Grazie. Infatti la nostra idea è molto concreta. Lo dicevo prima, dobbiamo sviluppare la mobilità sostenibile ma soprattutto il trasporto di merci su rotaie. Non è pensabile che meno di un terzo in Italia di merci viaggia ancora sul trasporto su gomma. È evidente che dobbiamo anche passando attraverso la fase degli impianti e dei rifiuti passare per utilizzarla per creare combustibile. La faccio breve. 70 kg di rifiuto umido fanno correre una macchina per 100 km. Che cosa vuol dire questo? Che se noi utilizziamo i nostri rifiuti, anche i nostri rifiuti, possiamo fare del carburante che ci porta e che ci aiuterà verso la transizione energetica e quindi verso la decarbonizzazione. Però se noi non diamo questi input, questi aiuti, questi contributi alle aziende per le riconversioni e bloccheremo il paese e non riusciremo neanche ad attenerci a quelle che sono le regole europee per la transizione energetica. Quindi la nostra idea è molto chiara e concreta. È da questa una fase, ma è una fase che va affrontata e va affrontata subito per poter passare attraverso appunto la transizione energetica. La plastica, ad esempio, è un esempio concreto di come l'ideologia con l'economia e con l'ambientalismo non vada di pari passo. Ora il ministro Costa vuole eliminare la plastica, dice, per difendere i mari, ma non dice che il 90% della plastica che finisce in mare ci arriva dai 5 fiumi più grandi al mondo e quindi se anche vietassimo tutto in Italia e in Europa non salveremmo l'ambiente. Si deve invece investire in ricerca, pensate che una bottiglietta da mezzo litro pesa oggi 10 grammi, la metà. Allora investiamo in ricerca, anche l'emergenza Covid ci ha dimostrato come la plastica sia utile se gestita bene. Pensate a quanto consumerebbe di più una macchina se eliminassimo le parti plastiche perché peserebbe 350 kg in più. Quindi si tratta di non demonizzare i materiali ma utilizzarli in maniera diversa attraverso la ricerca e questo ovviamente è un peso e un carico che deve avere l'Italia, deve avere l'Europa, deve avere l'Occidente anche per quei paesi che ancora inquinano di più. A noi spetta non vietare ma migliorare attraverso la ricerca. Ultima domanda che era arrivata online sul Ministro della Giustizia Bonafede. Sì, confermo quello che ho detto e su cui abbiamo lavorato, ho personalmente insieme ad altri lavorato anche stanotte. È stata depositata pochi minuti fa con le firme di tutto il centrodestra una mozione di sfiducia al Senato della Repubblica per l'evidente incapacità e inadeguatezza mostrata in un settore così delicato dal Ministro della Giustizia. Non sta a me ricordare le rivolte nelle carceri senza che sia accaduto nulla con morti, evasi e feriti. La scarcerazione, ormai siamo arrivati a più di 400 fra mafiosi, assassini e delinquenti usciti dalle carceri nell'inattività quantomeno del Ministero della Giustizia. Non sto a ricordare le proteste degli avvocati in tutta Italia, non sto a ricordare il caos che rischia di scoppiare nei tribunali visto che non c'è una presa di responsabilità del Ministero della Giustizia ed è lasciato alla libera iniziativa del singolo riaprire, non riaprire, come, quando e perché sulla prescrizione senza una riforma del diritto penale è già stato detto e scritto molto, mi sembra che disastri simili in un così breve lasso di tempo in un Ministero così importante meritino l'attenzione non solo del Parlamento ma di tutti gli operatori di giustizia. Non entriamo poi nel merito da garantista e da garantisti delle dichiarazioni del Giudice Di Matteo che hanno sollevato ombre preoccupanti su quello, sulle nomine da parte del Ministro Bonafede su quello che è accaduto su pressioni o su omissioni. Io non so se abbia ragione il Giudice Di Matteo, se abbia ragione il Ministro Bonafede entrambi non possono aver ragione, quindi se uno dei due ha torto, se ha torto un magistrato è grave, se ha torto il Ministro è doppiamente grave, però è solo l'ultima di una serie di inadeguatezze, di incapacità, di oltraggi a decenni di lotta alla mafia, alla camorra e all'andrangheta che non possono essere ulteriormente tollerate anche per rispetto di chi lavora nelle carceri. donne e uomini in divisa della Polizia Penitenziaria, medici, operatori, volontari, insomma è un mondo abbandonato a se stesso, non basta la dimissione tardata e forzata del Capo dell'Amministrazione Penitenziaria. Sono contento che, smentendo tutti quelli che sui giornali ama l'opposizione, divisa, ognun per suo conto, se si lavora con buona volontà si trova un impegno comune e non è un attacco a una persona. Il problema è che un Ministero così importante deve garantire che i mafiosi vengano portati in galera, non che i mafiosi durante il Covid escano dalla galera, anche perché più di un giudice mi ha detto, Salvini, ma che rischio hanno di ammalarsi se sono in isolamento e se sono al 41 bis, quindi mi sembra evidente. Conto che anche all'interno della maggioranza qualcuno si stia ponendo le stesse domande, non è una polemica di destra, di sinistra, di sopra e di sotto. Se escono centinaia di mafiosi di galera a me non interessa lo scarico di responsabilità, è colpa di Tizio, è colpa di Caio, è colpa del Tribunale di Sorveglianza, è colpa del Magistrato, è colpa della ASL, è colpa del Ministero, è colpa del Dipartimento. Sono usciti delinquenti che dovrebbero rimanere in carcere fino alla fine dei loro giorni senza nessuna motivazione plausibile. Altri rischiano di uscirne e quindi sono contento che agli italiani per bene di qualunque idea politica, giudiziaria o religiosa si offra la possibilità di andare oltre, di cambiare, perché si è portata fin troppa pazienza. Grazie. 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 Grazie.